I lupi! C'erano lupi dappertutto, uscivano dalle ombre, ne ero circondato, erano tutti intorno a me! Ah, è questo, ci hai svegliati per un sogno. Non possiamo ignorare questi sogni. Uh, inchiniamoci tutti davanti a Giuseppe! È un sogno ben strano. Lo so, è un'assurdità, ma sembrava così vero. Che cosa vuol dire? Io so che significa. Questi sono la mia. Famiglia? Ti mancano, è vero? Giuseppe non ha davvero visto il futuro. O sì? Il faraone è tormentato da un sogno. Nessuno dei suoi saggi sa spiegarlo. So di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo subito. È una sorta di dono. L'Egitto potrebbe non sopravvivere. Gli hai dato la forza per andare avanti. Non possiamo tornare senza di lui. Di nuovo. I tuoi fratelli hanno i loro doveri e tu i tuoi. Perché tu sei il figlio del miracolo. Ho tante cose da dire. Tante domande da fare. Giuseppe? Ed... E tuoi fratelli... E tuoi fratelli... O che fai... E tuoi fratelli... E tuoi fratelli...